Salve, scusate il ritardo, io mi chiamo Clementino e la canzone si intitola Cosa Cosa Cosa, vado? Sì, un attimo Sì, un attimo Sì, anche in una busta sound pittoresco Un lavoratore con il datore disonesto Ma questa metropolitana viene scavata Ma state facendo? O state cercando? O state scingando? Ma quando prendiamo Tre numeri pubangolotti che qui non ci stiamo In questo posto stai facendo una fila quattro settemane Stiamo a aprile ma mi vuole sapere dalla casa In questa trasmissione fra quest'anno è criminale Quirinale, Viminale, tutta Italia per Rinala Guarda la televisione, sono tutto uguale Si programma Rosa e Ghiagna pur si muore a Zanzara Una città che sta ingazzata, che ha chiappata, ammazzata Usa anche San Gennaro A stugire sei viaggiata Ma a me che freder Haaaa Vado lì, fritto come il club, pure se il sole è sicuro Tu ti hai una faccia e c***o, sei rap che faccio paura E pure tu, una carta conosciuta, una vacanza di un stumaro Vira ancora tutto scuro, coppa sti montagna, sulla fiamma, sulla danf Le maniate te l'iccate e baffo, frate, fatto selfie Mentre caro cornicione a galleria, vengo più mangiati da tv, cadendo tutto, frica mia Internet è nata a Napoli e lo sai, dalle signore sul balcone, in sciuccio web, wifi Come Pino e Troisi, i partroni e il tuo frate E come Alessandro Siani, una risata ci ha sempre salvato Te voglio far capire Quando faccio rap o frate, faccio merdo, cosa, 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 frate, cosa Quando faccio rap o frate, acabo una raposa, cosa, 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 frate, cosa Quando faccio rap o frate, sono pericolosa, cosa, 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 frate, cosa La mutua in bagate faccio capi fra quale ho problema Masterchef, fumare che è voleno Gopo bitti, certamente, inspira tanti sentimenti Tutto boss, buco in fronte, tutto Salvatore conto Radeggia una mano per nasci Parterà l'undana casa mia Che accade in due sole, ci aiutiamo Fratelli, tu sai mo' che aspettiamo È un miracolo facendo Signor Diena me presento Valla per chi in modo sta sento Ma un mezzo sarà lento È un miracolo facendo Signor Diena me presente Valla per chi in modo sta sento Rammatutto sarà lento Clementino, buongiorno, io sono Alessandro Siani, stavo dicendo che mi piace molto artisticamente perché voglio dire, c'è l'evoluzione della musica napoletana che va nel mo' e tutte queste cose. No, ti voglio spiegare pure tu chi sei, tu fai un bandante, perché magari a quest'ora voglio dire... Sei meglio, stiamo... Facciamo finta che abbiamo capito quello che... Grazie.